Musica Ben ritrovati a tutti, oggi con la nostra ospite parliamo di Cani Cross e tra poco vi spiegheremo tutto. Anzitutto buongiorno a Valentina Romanello, istruttore di Cani Cross ma anche referente regionale per la Federazione Italiana Sport Cinofili e prendiamo lo spunto da una manifestazione, da un evento, da una gara, ma non è solo gara, è anche un evento aperto a tutti che si svolgerà a Brazzacco. Intanto partiamo dall'appuntamento. Allora, l'appuntamento innanzitutto è domenica, si parte e si arriva alla proloco di Brazzacco dove ci sono tutte le strutture adeguate a gestire la logistica e dalle 7 arriveranno i primi atleti agonisti perché sarà una manifestazione agonistica e anche ludica. Alle 7 perché in realtà non inizia subito la gara ma ci sono dei controlli veterinari che si fanno in questo genere di eventi e poi dalle 9 iniziano le prove agonistiche e poi a seguire una passeggiata ludica per tutti, insomma, anche chi non fosse particolarmente allenato. Allora, cosa è Canicross? Corsa con il cane? È una disciplina vera e propria? Come la raccontiamo? Canicross è una disciplina vera e propria, rappresenta la corsa col cane ma effettuata con l'attrezzatura corretta, con le modalità corrette perché servono degli imbraghi particolari, delle linee ammortizzate, insomma, degli strumenti per rendere confortevole l'attività che per il cane poi è solo un grande divertimento. Ecco, c'è un regolamento, in Italia ci sono delle gare, devo dire che il Friuli è rimasto un po' indietro, noi siamo i primi adesso assieme ai Mascher Friulani e quindi speriamo che questa sia la prima edizione di una serie. Ecco, il vostro sito di riferimento è Marathon Dog, appunto con Marathon Dog voi state cercando di proprio anche divulgare o comunque ampliare gli amanti, i praticanti di questa attività, di questa disciplina? Sì, sì, ci siamo presi, devo dire, una licenza poetica così mi aggancio anche a questo sport. Marathon Dog in realtà, perché il nostro cane si chiama Boston, che è la città dove si svolge la prima maratona dopo quella di Atene, ovviamente storica, ma bisogna dire che queste discipline sono discipline che si svolgono su distanze sprint, quindi ripeto, è una piccola licenza, perché sono gare che al massimo durano 7 km, ma di media siamo sui 3-4, infatti a Brazzacco gli atleti e le altre persone correranno e cammineranno circa per 3 km. Ecco, quali sono le difficoltà? No, intanto, come si chiama? È lui Boston? Sì, è lui Boston. Vediamo un ritratto proprio, vediamo insomma correre in diversi ambienti, poi abbiamo visto anche sulla spiaggia, quindi viene coinvolto in un triathlon proprio, in questo caso. Sì, perché noi, io e il ragazzo che si vede nella foto, che è Franco Brussolo, proveniamo, chi da atleta, chi da giornalista, a chi da organizzatore, dal mondo del triathlon, per umani. Poi ci siamo inventati questa cosa, inventati in realtà, era già stata inventata nei paesi del nord Europa, noi l'abbiamo portata per la prima volta in Italia, è un format a tre discipline, esattamente come il triathlon, quindi c'è una parte di nuoto, una parte in bici, che però può essere fatta anche con quel mezzo che si è appena visto, che è uno scooter, una specie di monopattino, e poi la parte a piedi. Distanze sempre cortissime e mezzi tutti e due in alternativa, insomma, comunque sempre per l'off-road, quindi perché il cane può correre solo su terreni sterrati. Compatibilmente ovviamente con le condizioni meteo, perché in realtà il cane non potrebbe correre a temperature medio-alte, e quindi bisogna trovare un compromesso per la parte in acqua, dalle nostre parti. Quindi, volendo, c'è anche il duathlon, che è un modo per portare avanti il format tagliato, eliminando l'acqua e quindi potendolo svolgere nella normale stagione del cane, i cross che in realtà va da settembre-ottobre a marzo-aprile, insomma. Allora, chi volesse avvicinarsi a questa disciplina? Deve avere un cane? Deve avere un cane. Con il quale magari avere un bel feeling? Ci sono delle razze specifiche? Si può fare con qualsiasi cane? Oppure, insomma, meglio dedicarsi alle passeggiate con alcuni e con altri proprio dedicarsi alla pratica sportiva? Dunque, ci sono dei limiti fisici, tipo musi troppo corti o zampe troppo corte, ma una geometria, diciamo, una bella geometria consente a qualsiasi cane, ovviamente in salute, di fare, di svolgere questa attività, più o meno spinta, ovviamente. E' chiaro, ci sono a oggi, visto che la disciplina si sta evolvendo in Europa, ci sono delle razze apposta, anzi, degli incroci, i cui proprio si raggiunge il massimo, incrociando cani nordici, che hanno la resistenza, levrieri, che hanno la potenza, la velocità, bracchi, anch'essi con potenza e velocità, e quindi una bomba, un mix, che però non si consiglia, insomma, ai neofiti. Un neofita può approcciarvisi benissimo con un cane, ripeto, con la giusta linea. E' necessario un addestramento per il cane e per l'umano? Ma per l'umano, insomma, diciamo, un buon runner con un buon equilibrio, insomma, ce la fa. Chiaro, il cane è un po' un ostacolo a volte, perché potrebbe tirare e soprattutto va condizionato, cioè va fatto in modo che il cane capisca i differenti contesti, nel senso che il cane, non vorrei si pensasse che allenando un cane al canicross, poi il cane tiri anche al centro commerciale, in realtà no. Il cane è un animale contestualizzatore, che significa che... Sa dove fare le cose, insomma, in che circostanza. Sa che strumenti si fanno le varie cose, quindi basta tirare fuori lo strumento giusto e il cane dovrebbe, insomma, realizzare. Sopendere nella giusta maniera. Ecco, appunto, questa di Brazzacco sarà il primo evento di questo tipo? Il primo, sì. Voi avete ideato, appunto, già lo dicevamo prima, Doc Triathlon, che è stato un primo in assoluto nel 2018? Sì, che è stato fatto a Bibione. Ok, e questo sarà un primo evento un po' aperto a tutti. Diamo anche le dritte, allora, perché abbiamo dato l'appuntamento. Vosti contatti, dove cercarvi, dove chiedere informazioni? Allora, dunque, le iscrizioni per le prove agonistiche chiudono il 4, giovedì 4 alle 20, ci si può iscrivere andando sul nostro sito, c'è www.maratondog.it, c'è una pagina predisposta per, con su scritto manifestazioni, lì si trova tutto il regolamento. E per quanto riguarda, invece, la prova non competitiva, ci si può iscrivere anche il giorno della gara, ovviamente consultando prima il regolamento per sapere cosa portare con sé. Insomma, ci sono delle direttive, comunque, anche se l'attività non è, sì, è ludica, insomma. Ultima cosa, ci sono diverse discipline, abbiamo parlato di Canicross, ma si possono fare tante cose, abbiamo detto anche un po', ho parlato del dog triathlon, ma, insomma, non solo sprint, anche altri tipi di… Sì, dunque, si possono fare le singole frazioni, le singole discipline delle frazioni del format. Perché, per esempio, la istituzione di Canicross, ma anche di Dog Endurance, che cos'è? Sì, allora, diciamo, il Dog Endurance è una disciplina studiata dai referenti nazionali della Federazione Sporcinofili, che è stata fatta per i cani che non abbiano l'attitudine al traino, perché per questa attività il cane deve stare davanti a te, che tu sia a piedi, che tu sia a maggior ragione, che tu sia in bici. Però non tutti i cani hanno questo istinto, i cani nordici, ad esempio, ce l'hanno, ma qualche cane tende a stare al fianco. E quindi il Dog Endurance vuole essere una corsa per cani senza attitudine al traino, in cui il cane proceda al piede, correndo a fianco al padrone, ecco. Con un altro tipo di imbrago, però in linea di massima è quello, le distanze ovviamente si allungano un po', perché il ritmo inevitabilmente cala e possono aumentare anche i dislivelli, insomma, si può anche fare dei Dog Endurance Trail. Grazie a Valentina Romanello per averci portato, introdotto a questo mondo, che vi invitiamo a scoprire se andrete appunto a Brazzacco di Moruzzo questo fine settimana, le indicazioni ve le abbiamo date, quindi informatevi, un saluto a Boston a questo punto, che non abbiamo potuto avere ospite questa mattina a ore 7, ci sarebbe piaciuto, chissà, sarà per un'altra occasione. Grazie ancora, buona giornata, noi ci vediamo tra pochissimo. Grazie.